Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Delia Duran e Alex Belli oggi sembrano felicissimi e pare che l'attore sia disposto a tutto per renderla felice, tanto da prendere una decisione molto forte per lei Sono ormai lontanissimi i tempi del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge Delia Duran e la decisione di Alex Belli per lei. Ormai i due coniugi sembrano aver superato del tutto la crisi e sembrano oggi più affiotati che mai. Addirittura Belli per lei sarebbe disposto a fare una scelta molto forte Delia Duran e la confessione del marito.Delia Duran, dopo la crisi con il marito Alex Belli, sembra essere più innamorata che mai In un'intervista di coppia rilasciata a chi dopo una vacanza a Santo Domingo, i due hanno parlato di nuovo del concetto di amore libero che, ha detto loro, non sarebbe stato né compreso, né rispettato da alcuni, come l'opinionista del GFVP6, Adriana Volpe, sarebbe stato addirittura calpestato I due hanno affermato di combattere per i loro diritti negati a causa della loro impossibilità di sposarsi, entrambi lo sono già stati in passato e l'attore solo di recente ha ottenuto il divorzio Per loro quindi il fatto di essere una coppia aperta non significa essere diversi delle altre, ma anzi Loro sostengono di essere la normalità.Delia Duran, a questo proposito, ha detto che il loro concetto di amore libero comunque non necessita di molte spiegazioni e che loro sono limpidi come l'acqua e che a qualcuno le loro scelte dovessero dare fastidio sarebbero solo fatti suoi e a loro non cambierebbe assolutamente nulla Oggi comunque pare che Belli sia pronto a prendere una decisione proprio per amore della moglie Delia Duran Ecco di cosa si tratta.Ecco cosa Alex Belli è disposto a fare per la moglie Delia Duran ed Alex Belli, sempre nella stessa intervista rilasciata a chi, hanno ammesso di avere voglia di diventare presto genitori A questo proposito l'attore ha ammesso, noi dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile, ma alleggeriamo, nulla è impossibile Del resto l'attore già durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia aveva parlato della sua voglia di diventare padre e delle difficoltà che aveva incontrato con la sua ex moglie Anche Delia Duran aveva ammesso che il suo sogno più grande è proprio diventare mamma e quindi pare che adesso i due stiano lavorando affinché diventi realtà I due stanno addirittura già pensando ai nomi dell'ipotetico figlio ed hanno affermato che se dovesse essere femmina la chiamerebbero Pantera, mentre se dovesse essere maschio, Alex Junior perché, come ha ironizzato lo stesso Belli la mia dinastia, da egoriferito fino alla fine, deve continuare Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao